Quando scrissi alcuni giorni fa, come prevede la legge, una lettera alla Presidente Valeria Baglio dell'Assemblea Capitolina, scrissi quello che le rispondo anche adesso, che così, come prevede la legge, firmavo la mia lettera di dimissioni prendendomi i 20 giorni che la legge prevede per fare le opportune riflessioni e verifiche. Ho detto che come prevede la legge, ho scritto e firmato una lettera alla Presidente Baglio e come prevede la legge, nella stessa lettera ho indicato che mi sarei preso i 20 giorni per le opportune riflessioni e verifiche.